Oggi sono andato a battere il world record di Brawl Stars partendo dai più facili fino a giungere ai più difficili Guarda tutto il video per scoprire se ce l'ho fatta Prima world record, superare meno tempo possibile il tutorial di Brawl Stars Muoviamoci, dobbiamo metterci subito in posizione perché non possiamo trollare per nessun motivo questo tutorial E oggi ragazzi vedremo tutti i world record battuti da me, più illegali, più impossibili, quello che volete voi Mi metto subito qua in mezzo perché devono spawnare i robottini Dobbiamo superare tutti tutti i world record assurdi raga E guardate fino alla fine perché ce ne saranno alcuni di incredibili Mi dovrei mettere il Queen da quello che so perché dovrebbero spawnare i robottini Sto aspettando, spawnate magari in questo modo Muoviti, uno, e anche tu, anche tu muoviti Ok l'abbiamo ucciso, adesso mi devo mettere qui in questo modo Aspettando che mi dà la super perché adesso devo subito fare una roba assurda Esatto, devo fare così, bam e let's go Dovremmo aver superato questo tutorial Come nome direi di chiamarci world record E età io metterei 44 anni Come prossima sfida abbiamo la kill più veloce in sopravvivenza Direi di provarla un attimo contro questi bot Se non ci dovessimo riuscire la andremo a provare invece in un altro modo Voi ragazzi nel mentre fatemi sapere qui sotto nei commenti Quante volte avete fatto dei world record su Brawl Stars Ok ci abbiamo messo davvero pochissimo tempo Ma io direi di finire un attimo questa partita Vediamo se riusciamo a fare altri kill e quante ne riusciamo a fare Anche perché penso che non siamo riusciti a superare questo record Tranquilli che ci sono tantissime altre chance per riuscirsi E mentre manca solo una persona Ciao Colt, grazie per esserci stato Adesso vado a mettermi Frank E vado negli amichevoli Perché in questo momento c'è questa mappa che ci permette di fare subito una kill con Frank Dobbiamo solo sperare che ci spawna tipo una persona con pochissima vita vicino E no siamo spawnati con con Barry No non posso fare niente ragazzi Secondo tentativo ti prego dimmi che siamo spawnati tipo vicino a uno spike No non ci credo ci metterò un'eternità per fare questo Ragazzi siamo spawnati vicino a Piper Potremmo farcela vi prego vi prego In qua Piper perfetto si è avvicinato a noi Vieni di sto colpo e boom Ce la duriamo per fatta regà Let's go lasciate tutti un like e iscrivetevi per questo record E già che ci sono beccatevi questa super ulti che vi uccido a tutti quanti con il mio bellissimo Frank Fortissimi e direi di passare al prossimo record raga Il prossimo record è molto ma molto veloce Quello che dobbiamo fare è entrare subito in un club Quindi direi di partire tra 3, 2, 1 Andiamo su club Ah ma stavo già in questo fatemi uscire Non vi conosco Ma come non posso entrare Ok adesso sto entrando nel secondo account Perché nel primo non potevo fare niente Quindi direi subito di andare su club tra 3, 2, 1 Club Entra Let's go raga Sto facendo questo davvero pochissimo sono assurdo Non è bello rivedermi non me ne importa Grazie per avermi livellato la roba Non entro su sto account da lontano 1999 Adesso c'è un world record che vorrei non fare Che sarebbe vincere una partita a massima altezza Il ranked Questo è il doppio world record Quindi mettiamo il ranked E direi di alzarci con la scrivania E questo è un grande problema Perché adesso mi cadranno tutti i cavi Speriamo che non cada niente Alziamo la scrivania Ok raga siamo ad un metro d'altezza Sono scomodissimo Direi di metterci Leon in questo momento Scusate se mi vedete così Non riesco a stare seduto sulla scrivania Perché ho paura che succeda qualcosa a quest'ultima Ma si muove tutto raga Vediamo di vincere subito questa partita Che sarà un bel po' complicato Ok allora come prima cosa Qui devo pushare tutti quanti con questo Leon raga Nel mentre voi per favore Lasciate un like e iscrivetevi Put fuori lui E no non voglio morire Quindi attivo subito la super E bam E mori 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 Perfetto Perfetto l'abbiamo ucciso raga Adesso andiamo subito avanti raga E riproviamo a vincere nuovamente questo round Quindi let's go Bam 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 Hank ti faccio subito fuori In questo super modo easy peasy Metto la super Leon Così boom abbiamo vinto il round Abbiamo vinto il round raga Let's go E abbiamo vinto così Da ranked Oddio mio raga Ci stiamo mettendo davvero pochissimo Siamo veramente delle bestie Bene è stato davvero traumatico fare questa cosa Perché adesso mi fanno male i cani e le gambe ragazzi Ma io raga come potete vedere Volevo prendere proprio spunto da lui Che è andato a giocare In aereo Su Rome Stars Che è un world record assurdo Solo che io sono uscito ad alzarmi solo di un metro rispetto a lui Ed è andato anche a fare goal No scherzavo Non ha fatto goal per poco Qui si arrabbia Perché ha perso Però intanto ci ha provato Per il resto non è riuscito a fare giochi Ce l'ha persi tutti Perché non c'è nemmeno il wifi lì È giunta l'ora del record Che non avrei mai aspettato Quello dello shoppare E cosa devo fare adesso Andare a shoppare Un'offerta di Mr. Crab Con i verdoni Vaga Quindi se anche voi volete shoppare le skin Fatemelo sapere qui sotto nei commenti L'unico problema è che a me non mi piace nessuna di queste skin Ma sono obbligato E dato che voglio farvi vedere Che io ce l'ho Tengo a voi Cosa andrò a fare? Andrò a shoppare questa offerta Che costa Un bel po' 4400 Più 60 gemme Quindi cosa facciamo? Dobbiamo fare il world record Per prendere l'offerta E selezionarla subito Quindi iniziamo tra 3, 2, 1 Vai mi impegno subito Vado vado Acquista Ok Apri la mailbox Apri apri Ok abbiamo trovato il chambac Vai 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 Ok abbiamo ricevuto la skin di Meg Bellissima Attiva ora E adesso riceviamo anche 250 crediti E boom Abbiamo suggerato anche questo world record Già che ci siamo Andiamo a selezionare questa bellissima skin di Meg Che in realtà mi fa un po' cagare Sincero Cioè non voglio essere più che chiaro con voi Ora c'è un world record abbastanza complicato Che devo andare a finire per forza con lui Che sarebbe Corvo Perché dobbiamo andare a finire Il campo di prova in meno tempo possibile Abbiamo 3 tentativi a partire da adesso Siamo ora nel campo di prova Quello che devo fare Io direi tipo di andare a pushare subito A lui in questo modo Perfetto Vai muoviti 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 No però mi sembra troppo Raga mi sa che la tecnica così è sbagliata Mi sembra una tecnica super sbagliatissima Vediamo un attimo cosa riusciamo a fare Ma questa sembra davvero sbagliata Come te è tecnica Attiviamo la super E proviamo a buttarci su di lui Vediamo che riusciamo a fare Ok forse così forse così va bene E ho sbagliato Devo buttarmi su di loro Ok dovrei aver capito come fare Adesso invece ci andiamo a provare Quindi torniamo nel campo di prova Adesso mi metto sotto Ce la devo fare al primo tentativo Allora andiamo subito Addosso a loro Quindi facciamo così Bam 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 Anche tu muori per favore In questo modo Lui è morto Bam Allora Mori 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 Anche te ci dovresti morire Lo sai non so se lo sai Attiviamo questa E ci buttiamo addosso a lui In questo modo Hittiamo tutto Colpo 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 E adesso No ho sbagliato di nuovo Ci riproviamo Perché qui non demordiamo ragazzi Ci proviamo fino alla fine Attacco subito qui Vado qua Faccio così in questo modo Bam 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 Adesso devo andare su qui di questo Faccio così Lo uccido Adesso vado su di lui Che lo devo uccidere in questo modo Super veloce Adesso attivo l'overdrive E mi butto addosso a lui Spammo tasti Vado 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 Così in questo modo Adesso vado su di loro Ragazzi che ce la stiamo facendo Devo attendere l'altro overdrive Ragazzi l'altro overdrive Mi serve tipo subito Muoviti 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 Abbiamo l'altro overdrive Ragazzi abbiamo l'altro overdrive Mi devo buttare su di loro Su di questo Vai di qua E Sì Non so quanto abbiamo fatto Ma spero di aver fatto un buon tempo Rispetto a world record È abbastanza dura È stata abbastanza dura questa Adesso invece mi sono dotato Di un secondo dispositivo Che è il mio iPad Perché devo fare una cosa Abbastanza facile Cioè invitarmi E rifiutare immediatamente I secondi sono davvero bassi Del world record E noi dobbiamo cercare Di abbassare ancora di più Allora facciamo una prova Mi invito E qui c'è il tasto rifiuta Quindi mi devo Devo essere prontissimo Quindi tra 3 2 1 Vai Raga Sono stato Velocissimo Cioè nemmeno si è visto Che l'ho rifiutato È incredibile Sembra proprio quando mi invita Quell'amico che non voglio E lo rifiuto immediatamente Ditemi se l'avete mai fatto Nei commenti Invece adesso Andiamo nelle missioni Perché dobbiamo finire la missione Il tempo più veloce possibile Io ho già una bellissima missione Che posso andare a finire Che sarebbe questa Sconfiggi 15 nemici Ho già iniziata Ma chi ha detto Che non si può già Prendere una iniziata Quindi andiamo con stecca Che ce l'ho grado 20 E andiamo in footbrawl Quindi let's go ski Let's go E ce l'andiamo pari A fare anche questa sfida Quindi andiamo a vedere Un attimo contro chi siamo Vai ragazzi Cioè è facilissima Siamo anche Ok forse questi non sono Tanto dei bot Vedo che hanno delle Targhette Ma vediamo di fare le kill Raga Let's go Una kill fatta No raga non ci credo Cioè se ce la portiamo così A casa sono davvero un bestione Tutti i world record Sono miei Oddio no No bro 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 Ti prego ti prego bro Facci dentro Facci dentro bro Grande Super Eh raga Non l'ho fatta io Raga mi sta No raga mi sta fottendo Tutte le kill Non ci posso credere Non ci posso credere Mi manca ancora una kill Devo fare un'altra partita Cavolo cavolo Eh mi sa che questo È un world record un po' fallito Come se stessi ricominciando Da capo Però subito mettiamo pronto Andiamo subito Con la seconda partita Ragazzi Perché questo world record Deve essere nostro Adesso direi subito Di rimettere In questo modo Vai 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 Ti prego ti prego Ti prego ti prego Ti prego No ragazzi Aiutatemi a fare le kill Vi supplico Vi supplico Mi serve il world record Non posso perdere questo Dai Cioè parliamo di cose serie L'obiettivo oggi È fare i record E voi fate questo Compagni Giocate bene Allora Proviamo adesso Ti prego Dimmi qualcosa di buono Non mi parte la super Raga Ok Allora Sto arrivando Sto arrivando Adesso adesso Mi metto subito Questa bellissima super Ve la faro in faccia In questo modo E boom Facciamo goal Così raga Easy Facciamo così Nel c Eh vabbè Adesso le faccio tutte Io le kill Raga GG Adesso finiamo la partita E poi passiamo al prossimo World record Che sarà ancora più difficile Ma io faccio così raga Quanto è bello Specca quando fa così raga Ho 300 di vita Ma stecca Mi regala soddisfazioni Adesso È vinta Cioè se non è vinta adesso Non è vinta mai ragazzi Bro Bro Falla entrare Bro Falla entrare Non fare scherzi Let's go Ho raggiunto un momento peggiore Perché dobbiamo vincere Tutte queste modalità Nel minor tempo possibile Quindi scegliamoci un brawler Che ha davvero pochissime coppie In modo che troviamo E botta Ad esempio lei E direi di iniziare subito Ad andare in singolo Dobbiamo vincere in pochissimo tempo Poi ce la dobbiamo fare Quindi guardate fino alla fine Per scoprire se ce l'abbiamo fatta Oppure no Ok ti prego dimmi Che sono tutti bot No Vabbè ci proviamo lo stesso Ce la possiamo fare lo stesso Cioè ti prego gioco Mi devi dare solo dei bot Niente di più difficile Allora Forse così però È anche un poco più complicato In realtà Ora che ci penso L'unico problema è che Se magari questo hash Mi lasciasse in pace Io potrei anche farcela Solo che qui Sono in una brutta situazione Tu ci puoi anche morire Grazie mille per l'esercitato Siamo in set Buonissimo siamo già in set Mi sa che devo iniziare a duplicare In questo modo Così che tipo questo qua Se entra di qua Ci diamo in 5 secondi Esatto Poi mi devo duplicare di nuovo E noi facciamo la sorpresa Ciao Spike come stai? Oh mio dio mi ha distrutto Oh mio dio se mi ha distrutto Raga sono un one shotissimo Ho 260 di vita Non ci posso credere Recupera in pochissimo tempo Siamo già in 3 Se riusciamo a vincerla ragazzi Sono davvero un bestione Lì c'è l'ultimo E adesso raga Mi sa che l'ultimo Devo pusharlo per forza Quindi faccio tipo In questo modo Ti prego No cavolo 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 No Però siamo arrivati i secondi Abbiamo comunque vinto Tra virgolette Perché abbiamo fatto delle coppe Adesso ragazzi Devo subito andare a mettere Ci mettiamo un mag Prendiamo di foot brawl Perché ragazzi Dobbiamo sempre mettere Dei brawler Poche coppe In modo che poi andiamo a trovare Dei bot Spera Anche questi non saranno mai bot Invece Invece Forse lo sono E vediamo anche la skin Che abbiamo shoppato poco fa Madonna non l'avrei mai shoppata Però per world record e altro Ragazzi Raga questa potrebbe essere La partita della vita Facciamo subito goal Bam Ok uccide tank Uccidete tank Io non posso fare tanto Uccidete Uccidetelo Mamma andate a fare goal ragazzi Te la passo No raga però Dei compagni davvero stupidi Deve subito andare a fare goal Bro 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 Tieni te la passo Tranquillo che sono bot Bro tranquillo No raga che cosa ha fatto il compagno Io voglio solo vincere in santa pace Non voglio fare nient'altro Ti prego fate goal Vai 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 E adesso 3 2 1 Let's go Primo goal Ne manca solo un altro Ne manca solo uno Quindi andiamo dritti Sulla palla Io adesso di nuovo Il super mag Facciamo così Raga li abbiamo ammazzati tutti Non ci posso Madonna raga Ti prego Buttiamola subito dentro E let's go Abbiamo vinto anche questa partita Adesso dato che abbiamo vinto Devo tornare subito in lobby E devo cambiare immediatamente Brawler Mi vado a mettere Grey Mettimi Grey Bravo Ok quindi metto subito Raffa Gemme ragazzi Con Grey Ce la possiamo fare Vi prego Questa partita Questo world record Ce lo dobbiamo portare a casa Voi nel metto Lasciate un like Iscrivetevi E fatemi sapere Qui sotto nei commenti Se avete mai usato Questa strategia Di cambiare brawler Quando perdete O vincete una partita In modo che dopo Incontrate i bot Raga diretti eh Senza pensare due volte Ok meno male Che non è FK Il nostro compagno Io adesso faccio la giocata No guardate Ok Allora fermi tutti Che questi sono Sono molto bastardi Li vedo già Ma li abbiamo uccisi Ok li abbiamo uccisi E' fermo Non ci credo E' fermo E' fermo E' buonissimo Fatto che è fermo E' strabuono Ci avvantaggia un bot Questa cosa Prego colpiscilo Bravo 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 Abbiamo già 5 gemme Questa cosa va benissimo Io cerco di camperarmene Il più possibile Perché non devo essere ritato Per alcun motivo Di fa tutto lola La nostra lolita Uccidetelo 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 Raga 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 Fatemene andare Bravissimi E così che si gioca Siamo già 6 gemmozze E li faccio così In questo modo Boom No raga Non lo so proprio usare a lui Lasciate stare Uccidete quel buzz Ce ne mancano pochissime di gemme raga Ci manca una sola E mozza raga Solo una ce ne mancano E mentre qui faccio in questo modo Che uccido Ce ne torniamo subito dietro Non pushare BB Non pushare Ce ne dobbiamo tornare indietro Perché dobbiamo vincere No BB è proprio stupida Abbiamo una BB stupidissima Fammelo prendere a me E cioè torniamo indietro in questo modo Ragazzi tecnicamente abbiamo vinto E poi ci mancano altre 2 barra 3 modalità Sarà veramente lunghissima come cosa Voi continuate a guardare Per scoprire se ce la faccio oppure no E abbiamo fatto anche questo Adesso passiamo subito A rapina No lo star drop no Allora andiamo su Footbrew No rapina Andiamo su Mettiamo che ne so Lola Si vai 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 di Lola Ok qua ho perso un po' Ho rallentato un po' troppo ragazzi Trovami giocatori Trovami giocatori Ok trovati Meno male E non sono bot Questo sarà un grande problema Ci proviamo lo stesso Ragazzi football 5 contro 5 Lo schippiamo perché Schippiamolo Cioè non è una vera modalità Secondo me Oh guarda quanto danno fanno Curiamoci subito con L'unicorno Raga fanno troppo danno questi Ne facciamo così Ne facciamo tantissimo anche noi Guarda quel topolino Quanto deve rompere Uccidete il topo Prendete il topo Prendete il topo Ah vi fate Fate fuori anche lei Che dà tantissimo fastidio Adesso raga Io recupero un secondo la vita Mi metto col doppione E vado a distruggere Quella roba raga Il mio obiettivo è questo Quindi mi metto subito Col doppione E invece il mio doppione È morto subito Perché sono stupido Io la prossima Nella prossima vita Devo essere un po' più intelligente E adesso No raga Adesso ci dobbiamo difendere Eh raga Non mi lasciate a difendere da solo Magari Guardate questo quanto è forte Cavolo Ok 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 Va bene va bene va bene va bene Continuiamo a giocare Tanto guarda moe Guarda moe quanto dà fastidio Oppure l'erri Andiamo diretti Andiamo diretti Andiamo diretti Spara spara Vai spara Allora No ragazzi Vi prego vi prego vi prego Spara 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 Dai manca poco Dai che manca poco Ragazzi Ragazzi 4% Perché non spari moe No ragazzi Ho un compagno davvero Ho dei compagni davvero stupidi Però adesso Ce l'abbiamo fatta dai Ce l'abbiamo fatta vero Let's go Ci manca solo una modalità Cambiamo subito brawler E passiamo alla nuova modalità Quindi andiamo a mettere Lui Ci mettiamo in K Ti prego raga Ce la dobbiamo fare Ci siamo quasi riusciti Trovami giocatori Trovami bot Ti prego bot Mi servono solo quelli Ti supplico Ci siamo E non sono bo Anzi sono forti Eh vabbè Ci proviamo lo stesso Proviamo lo stesso Abbiamo una che non è FK Però un poco scarsina Secondo me Forse può essere anche quella che cari Eh no ragazzi No non possiamo perdere Non ci posso credere Non ci posso credere Ma guardate Guardate chi ho trovato Fai qualcosa Ambra Ce la puoi fare Qua ci serve il world record Eh no Ambra cosa può fare Ci proviamo lo stesso Potremmo recuperare Raga ma è impossibile Praticamente impossibile Perché la situazione qui È terribile raga È davvero terribile La situazione Guardate quanto sono forti Però abbiamo fatti fuori due Può essere che riusciamo a fare qualcosa Raga Posso fare così Let's go Raga fermi tutti Ci manca un round Giochiamocela bene Vi prego Che così riesco a superare questo world record Mentre voi datemi la carica Scrivendo un commento Lasciando like Ed iscrivendovi Eh no 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 Fermi fermi Eh no non ci facciamo Ambra tornatene indietro Eh Ambra qua ha fatto una brutta cosa Eh raga Fermi tutti Che forse Forse riesco a giocare bene Forse qui Gab riesce a fare qualcosina Ok Devo uccidere a Tic Tic è l'unico fastidio Oddio almeno che non riesco a fare questo A meno che Eh no raga È troppo complicato Ragazzi avete Mi hanno messo alle strettissime Eh raga guardate Se adesso mi pusha lui Io sono morto Eh no raga Non ci posso credere Ho avuto davvero tanta sfortuna I miei compagni Hanno giocato male Ragazzi comunque possiamo dichiararci vincitori Ci apriamo queste ultime robe che mi hanno dato Abbiamo recuperato delle gemme Diamo start drop raro Super raro E niente super raro Ma oggi comunque abbiamo fatto delle belle robe Abbiamo superato dei world record assurdi Io vi ricordo di lasciare un like Iscrivervi al canale Condividere Ci vediamo alla prossima Ciao belli